Siamo nei piacevoli campionati del centrocampista Ronaldo, centrocampista azzurro. Una stagione importante, al di là di qualche panchina, come tutti vorresti giocare un pochino di più. Però sei giovane, hai ancora molte opportunità. Che stagione è stata se dovessi fare... Non siamo ancora arrivati alla fine, però una riflessione su quella che è stata questa stagione. No, ma la stagione sicuramente è stata positiva. Anche se avrei voluto giocare un pochino di più, però secondo me sono riuscito a crescere anche senza giocare tanto. E niente, perché ho vissuto con un gruppo bellissimo, con tante persone che hanno tante esperienze e che in qualche modo mi hanno insegnato qualcosa. Sei stato forse quello che più di tutti è stato al centro del mercato in uscita per quanto riguarda la sessione di gennaio. Questo, in molte occasioni si parla che possa provocare scarsa concentrazione ai giocatori, no? Quando accade anche in Serie A. L'hai sentito questo tipo di situazione, di essere magari un pochino estraneo all'ambiente a gennaio? No, no. Non ho sentito niente perché dopo che ho parlato con il mio procuratore e abbiamo deciso di restare qua, praticamente le voci non le ascoltavo più perché sapevo che rimanevo qua e niente, per quello non ho influenziato niente. Molte dette lavori ti reputano come sostituto di Aldi Mirko Valdifiori nell'11 dell'Empoli. È una posizione che prediligi o ti senti anche di poter giocare anche in altri ruoli? No, sì. Quel ruolo lì è il ruolo che mi piace di più, però ho già giocato pure da mezz'ala. Riuscirei a giocare anche lì, però il mister dice che mi vede meglio davanti alla difesa. Senti, arriviamo al punto cruciale. Cittadella, la prossima partita come la state vivendo a livello di squadra? Ma niente, stiamo vivendo serenamente, ci stiamo avvicinando al traguardo, però anche se siamo lì mancano due partite, siamo concentrati e anche abbastanza tranquilli e sappiamo che abbiamo tutte le carte in regola per fare qualcosa di importante. Mister Sare che cosa vi sta dicendo in questi giorni? Ma niente, il mister è bravo perché prova sempre a toccare i tasti giusti e niente, ha iniziato a preparare la partita come fa sempre. Sicuramente preparare la partita benissimo come è sempre fatto. Immagino abbiate analizzato al 100% i vostri avversari, quali sono i punti da dover difendere in modo particolare? Quali sono le pericolosità che vi ospitate dal Cittadella? Loro hanno un modo, cioè nel senso, fino ad oggi avevano giocato 4-4-2 e poi non lo so come prepareranno la gara contro di noi. Ma dall'andata si è visto che sono rimasti chiusi e uscivano con i contropiedi. Noi in settimana prepareremo la gara su questo anche. Giocare con una squadra come Cittadella che deve prendere punti per la salvezza contro un avversario come l'Empoli che cerca punti per raggiungere un traguardo può essere una partita clou secondo te di questa penultima giornata? Sicuramente sarà una partita importante perché entrambe le squadre hanno qualcosa in palio. Però sicuramente tutte le squadre avranno voglia di vincere per raggiungere l'obiettivo il primo possibile. Però sappiamo pure che abbiamo i mezzi per farcela. Ronny, tra poco si avvicinerà anche il Mondiale. Immagino che tu lo seguirai da diretto interessato e da cittadino brasiliano. Che campionato ti aspetti per quanto riguarda il Brasile e l'Italia? Ma niente, per il Brasile penso che sia uno dei favoriti. Perché è normale, perché già l'anno scorso la Confederation Cup ha fatto benissimo e ha tanti ragazzi giovani. E poi l'Italia non lo so, negli ultimi tempi non è che sta andando benissimo. Hanno provato un po' a cambiare un po' la squadra e non lo so, però l'Italia mondiale riesce sempre a tirare fuori qualcosa. Però io mi auguro che vinca il Brasile. Se non vado errato, il tuo contratto con l'Empoli scadrà nel 2016, ci sono altri due anni in collaborazione con questa squadra. Ti sei dato degli obiettivi, ti poni degli obiettivi al di là di quello che potrebbe essere il prossimo anno? Sì, ho ancora altri due anni. Gli obiettivi ce li ho, è normale. Spero di raggiungerli il prima possibile. Però sicuramente il mio primo obiettivo è di riuscire a giocare tanto con l'Empoli e penso come tanti giocatori che l'Empoli sia la mia squadra di lancio. È vero Grazie a tutti.